Salve, io mi chiamo Guido Zirone e sono un consigliere della delegazione provinciale ONAB di Siracusa. Noi facciamo dei corsi annuali per l'avvio alla figura dell'assaggiatore, il prossimo corso inizierà il 23 ottobre, qui al desk potete trovare sia la domanda per partecipare al corso oppure semplicemente se volete lasciare i vostri dati e sarete inseriti nella nostra main list per comunicazioni, appuntamenti o quant'altro organizziamo nella provincia. Perfetto, quindi così lasciando la scheda compilata possono avere la main list con tutta l'informazione dei programmi che organizzate.